Signor Massimiliano, perché ci ha contattato? Perché basta guardarci in giro, cosa succede? Qui è ormai da anni che c'è questa situazione e nessuno... Quando piove vengono qui, rattoppano e dopo un mese, un mese e mezzo, la situazione è sempre la solita. Per quanto poi riguarda il capanone qui abbandonato a se stesso, erbe, bisce, toppi e quant'altro, perché poi succede di tutto, no? Sembra una strada abbandonata di periferia, con l'asfalto rattoppato, un'attività commerciale chiusa da anni, in cui colombi, topi e bisce hanno nidificato, utilizzata spesso come latrina. Invece siamo in via Ricasoli, alle porte del centro, in quartiere Fornaci. Più volte chi ci ha contattato ha chiesto l'intervento del comune, che a suo tempo aveva anche promesso che la strada sarebbe stata asfaltata. Invece è ancora così come la vedete. Io ho segnalato più volte in comune, dappertutto. Vengono qui, quando glielo segnali, vengono qui con il solito carettino, con un po' di asfalto, coprono le buche, li potete vedere, e poi se ne vanno, le pestano un po' con i piedi. Chi vive qui è prigioniero delle auto che a decine entrano in strada solo per girarsi, e di quelle che invece entrano, parcheggiano, restringendo ulteriormente lo spazio di manovra dei residenti, nonostante i cartelli di divieto di sosta. Qui c'è sempre due, tre, quattro macchine, parcheggiate, sempre fisse, e qui lo stesso, nonostante lo spazio è quello che è, la strada purtroppo è a doppio senso, è anche quello il guaio. Essendo a doppio senso la gente entra. Poi c'è questo mostro che perde pezzi ad ogni temporale, tra tegole e grondaia di velta e staccata dal vento, che potrebbe anche diventare pericolosa. Per non parlare dello stato di abbandono con le erbacce che hanno colonizzato la strada, il signor Massimiliano le ha tagliate ogni tre mesi, ora ha deciso di dire basta. Allora l'assessore di competenza che cosa chiede? Chiedo che se c'è la possibilità di sistemare la strada e magari se si può inserire un piccolo marciapiede per camminare sicuri, e che questo capannone che abbiamo di fronte, che è un'indegnità, che possa essere messo a posto e che impongano ai proprietari di mantenerlo pulito. E come noi siamo soliti fare, porteremo immediatamente il messaggio al destinatario.